Sono Antonio Bonardo, Public Affairs Senior Director di G-Group, agenzia per il lavoro. Noi di G-Group abbiamo deciso di supportare la categoria competenze per il Procurement Award 2017 perché riteniamo che la leva formativa sia una leva fondamentale per supportare il cambiamento culturale che l'impatto delle nuove tecnologie inevitabilmente porta nel mondo del lavoro. D'altro canto siamo anche convinti e consapevoli che attraverso la formazione si riesce a innalzare quello che è il livello di competenze della funzione acquisti e ad impattare in maniera positiva sulla performance di chi vi opera. Questo lo riteniamo un passaggio necessario per sostenere le aziende a reggere nella competizione globale che sempre più impatta e ha delle conseguenze dal punto di vista della competitività delle imprese.